ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale su youtube oggi vi farò vedere la base siamo fuori nel cortile dei miei nonni che faccio vedere la base dell'orient express dove passerà il modellino guardate come lunga va fino là in fondo guardate il percorso il tragetto il fiume gli alberi guardate quanti alberi andranno poi c'è un tracciato c'è un tracciato qua vedete come lunga guardate qua guardate qua come lunga qua c'è stazione di sale quindi andrà qua e poi prosegue di qua fantastico questo modellino quindi iscrivete al mio canale commentate attivate la campanella mettete mi piace se il video vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video ciao prossimo video ciao